Gita Pro Ha pubblicato sul social club un nuovo articolo dove parla del prossimo aggiornamento Infatti ragazzi in questo nuovo articolo che ha fatto nel titolo di questo articolo c'è scritto che l'aggiornamento uscirà il 7 giugno 2016 Quindi ragazzi l'aggiornamento che si chiamerà Financing and Felony uscirà il 7 giugno in GTA Online E che settimana prossima uscirà il trailer ufficiale di questo aggiornamento Quindi ragazzi secondo me sarà veramente un aggiornamento fantastico, epico Perché appunto di solito quando fanno uscire un aggiornamento non fanno quasi mai un trailer Poi hanno messo anche un'immagine di un veicolo che uscirà con l'aggiornamento Che si chiama Pegasi Reaper e questo qua ragazzi sarà uno dei veicoli che usciranno con il prossimo aggiornamento Quindi avremo tanti veicoli nuovi E quindi niente non ci resta che aspettare settimana prossima per saperne di più Appunto settimana prossima uscirà il trailer di questo DLC Quindi vedremo molte più cose riguardo appunto questo aggiornamento Secondo me sarà veramente un DLC fantastico appunto perché di solito non fanno mai trailer Quando esce un aggiornamento Secondo me sarà veramente un DLC fantastico E quindi niente ragazzi questo video finisce qui Iscrivetevi per non perdervi i prossimi video Lasciate un like a questo video per supportarmi Se vi serve un account moddato per GTA Online a basso prezzo per PS4, Xbox One e PS3 Vi invito a passare nella mia pagina Facebook E detto questo ragazzi noi ci vediamo in un prossimo video Bella Ciao 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 Ciao